Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa a mattino 6 inizia subito dai giornali regionali allora andiamo subito sul centro per la pagina di Pescara questa l'apertura mare sporco bagni ancora vietati le nuove analisi tra Pescara e Francavilla inquinamento oltre i limiti e poi a centro pagina scopre il ladro con le telecamere le foto vengono messe su facebook e l'iniziativa di una gelataia di Pescara nelle cronache lite d'oro e li porto conteso comune e asl in cassazione e ancora in Pescara parchi e giardini cani sporcano prime multe ai padroni e poi per il calcio di serie b nello sport il dg repetto il Pescara volerà con due rinforzi nel taglio basso della anzi no sotto la fotonotizia scusate andiamo a vedere quest'altra notizia di cronaca investito dal bus ciclista ferito Pescara trascinato per il piede incastrato sotto una ruota e poi dicevo nel taglio basso il buongiorno abruzzo firmato da Dino Venturoni la moglie e il marito e 300 canarini la separazione tra i due conagi leggiamo nel buongiorno abruzzo è sempre un fatto traumatico un piccolo grande dramma che quasi nessuno riesce a vivere con il sorriso sulle labbra ma magari un sorriso ci può anche scappare se la diatriba coinvolge 300 canarini accade a Pineto un allevatore di canarini d'accanto che per la propria attività ha vinto anche dei premi internazionali deve lasciare il tetto coniugale sulla base di un'ordinanza del tribunale emessa nella prima fase della causa di separazione come prassi la casa di famiglia viene assegnata la moglie ai figli sì ma i canarini ecco il provvedimento di sfratto esecutivo per il marito che dovrebbe essere esecutivo da oggi appare di difficile attuazione proprio perché di mezzo ci sono i 300 pennuti l'allevatore deve trovare un posto un altro posto adatto per accudirli e finché non lo troverà chiede che gli uccellini restino dove sono in una taverna della villetta di famiglia lì ovviamente lui dovrebbe continuare ad accedere i suoi legali hanno anche proposto di rendere indipendente l'accesso alla taverna con opportuni lavori dalla controparte la moglie finora nessuna risposta così oggi insieme all'ufficiale giudiziario nella villetta si presenterà anche la forestale una diatriba tra umani non possono mica pagarla innocenti creature dell'aria e andiamo adesso sotto la testata del centro per vedere i richiami dal nazionale terrore attentato contro i turisti a bangkok 19 i morti e poi gli sbarchi dei migranti un container per i 49 corpi catania proclama il lutto cittadino e poi pizzaioli assassinati i killer di brescia i killer di brescia confessano ma non convincolo cambiamo adesso edizione provinciale andiamo a vedere insieme l'edizione della provincia di chieti andiamo a recuperare la prima pagina vediamo se riusciamo a tornare sul sull'applicazione del centro dicevo andremo adesso ad osservare le altre prime pagine provinciali del centro iniziando da quella della provincia di chieti per poi passare a teramo e l'aquila evidentemente il nostro ipad questa mattina fa le bizze allora facciamo così andiamo sul messaggero torneremo più tardi sul centro andiamo a vedere la prima pagina dell'inserto abruzzo del quotidiano romano titolo di apertura mare inquinato l'odissea continua l'arta conferma i valori batterici fuori limite tra pescare e francavilla restano i divieti forza italia movimento 5 stelle chiedono le dimissioni del sindaco di pescare a marco alessandrini mentre Antonio Luciani il primo cittadino di francavilla dice vado in procura e dunque non si è ancora risolta la problematica a Fosso Pretaro che è proprio la zona colpita diciamo da questo da questo problema inquinamento zona che si trova a nord di francavilla al confine con Pescara e su zona nella quale insiste anche un depuratore a Sulmona in questa finestrella la nuova TAC c'è ma è nello scantinato politraumatizzati e casi sospetti vengono oramai da una settimana indirizzati direttamente agli ospedali di Popoli o di Avezzano dal 10 agosto scorso infatti il nosocomio annunziata di Sulmona non ha più la TAC Andiamo a centropagina Costa Teramana finanza fuori dei locali raffica di sequestri droga e movida allarme per i giovanissimi in questa fotonotizia sono stati 20 sequestri della finanza nei controlli di Ferragosto ma ben 14 sono stati effettuati su giovanissimi nelle vicinanze dei locali notturni torna intanto l'incubo dello sballo e poi il report shock la piaga aperta degli ubriachi neopatentati dati della stradale tante patenti ritirate molte sono di ragazzi tra i 18 e i 24 anni di spalla smascherò il premio Pulitzer depone in aula a vasto questa è la storia singolare di una deposizione importante per una contesa di poco conto ma è stata chiamata un ingegnere molto famosa è proprio l'ingegnera Amerini del centro di eccellenza dell'università di Firenze il perito che ha smascherato la foto la manipolazione sulla foto vincitrice del premio Pulitzer nel 2013 del messicano Contreras la donna l'ha smascherata la fotografia assieme al collega Caldelli ed è andata a deporre a vasto nell'ambito di una storia particolare che ovviamente potrete leggere sul giornale nel taglio basso Abruzzo da scoprire Maiella dura ma stupenda e poi invece sotto la testata l'estate Chieti comune povero estate nera salta anche One Night Artist e a spoltore Mitigreci in scena Pambieri porta l'Antigone all'Ensemble e a Francavilla questa sera in 50.000 per i fuochi da sogno che concludono come da tradizione la festa del Santo Patrono San Franco questo l'appuntamento clou dell'estate francavillese adesso proviamo a tornare sul quotidiano il centro vediamo se riusciamo a mostrarvi le altre prime pagine provinciali del centro restavano da vedere Chieti Teramo e L'Aquila allora vediamo se riusciamo a recuperare adesso la prima pagina di Chieti eccola qui ci siamo riusciti il titolo di apertura Bimbi salvati dall'annegamento i due ragazzini stavano con i nonni un uomo di vasto scongiura la tragedia e a centro pagina ancora le analisi a Fosso Pretaro mare ancora sporco bagni vietati tra Pescara e Francavilla nelle cronache il sacerdote del concilio guardia grele dice addio a Don Lorenzo e poi in Lanciano incidenti nel Frentano automobilista e ciclista gravi in ospedale e poi i conti di Lanciano bilancio 2015 con un buco da 810.000 euro andiamo ancora avanti con la lettura del centro adesso andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Teramo Savona-Teramo e guerra di nervi cambia diciamo tenore la prima pagina di Teramo con un'apertura che riguarda la presunta Combine e il processo sportivo per la partita Savona-Teramo riconvocati i giudici slitta la sentenza Lascoli la Combine è sicura insomma ci sono ci sono anche dei dubbi sembrerebbe che ci siano dei dubbi all'interno della Corte di Giustizia federale non tutti i giudici sono convinti che ci sia responsabilità diretta da parte del Presidente Campitelli poi vedremo più avanti altri altri articoli proprio su questo argomento andiamo a vedere adesso a centropagina Dio a Federica la ricordano i compagni e il padre 15enne morta in un incidente a Pineto ieri pomeriggio si sono celebrati i funerali che sono stati molto partecipati poi nelle cronache il caso Castronio incubo carcere sventati altri due suicidi e ancora in Teramo lo scontro Brucchi ecco perché è giusto abbattere i pini e ad Alba è nato un comitato per difendere le spiagge libere resta ora da vedere l'ultima delle quattro prime pagine provinciali del centro quella della edizione aquilana e del capoluogo di regione andiamo dunque a vederla insieme Sgravi una partita da 100 milioni l'Aquila ecco quanto rivuole l'Europa che chiede arretrati al 100% si parla dunque delle tasse che il cratere sismico gli abitanti del cratere sismico devono devono pagare in conseguenza dello stop a seguito del terremoto del 6 aprile del 2009 sempre all'Aquila centropagina questa fotonotizia la città ferita ostaggio di vandali e sporcaccioni una città stretta d'assedio tra gli assalti di sporcaccioni e vandali ride non si fermano neppure a meno di una settimana dall'avvio delle celebrazioni della perdonanza celestiniana e poi guida drogato ferite in due Piescina automobilista provoca un incidente in pieno giorno nelle cronache in Avezzano morte sospette in ospedale scatta l'esposto e ancora l'incendio rogodoloso nelle gole di Celano e poi a Castelvecchio subequo marioana tra le gabbie dei conigli e dunque adesso cambiamo testata passiamo ad osservare insieme il quotidiano la città e andiamo subito a vedere la prima pagina si torna a parlare sul quotidiano della provincia di Teramo del processo sportivo per la partita Savona Teramo e il titolo conto alla rovescia per il Teramo ore di attesa per la sentenza dei giudici sportivi l'avvocato del Teramo Chiacchio dice sono fiducioso Campitelli è pulito e poi c'è il punto sul Teramo di Federico De Carlo dal titolo anche la speranza logora a centro pagina il funerale di Federica l'addio ieri a Pineto migliaia di persone ai funerali della quindicenne e poi fracasso e droga Movida nel Mirino via dall'albergo per il rumore chiesti i danni alle discoteche di spalla la linea di retco turismo giuliese ridotto ormai a Lumicino poi l'autopsia su Tacconelli il ciclista della bonifica ucciso da un malore e ancora due arresti a Teramo andavano a spasso con una moto rubata nel taglio basso stasera il concerto l'energia di Irene Grandi accende la notte azzurra di Tottea e poi sotto la testata la polemica dopo l'annuncio soldi per rifare la strada prati di Tivo presi in giro allarme a Castronio agenti salvano due detenuti dal suicidio e dal badriatico auto sulla folla alla Bambinopoli cinque i feriti lasciamo i quotidiani regionali che ritroveremo nella seconda parte di mattino 6 apriamo lo spazio dedicato alla rassegna nazionale con le prime pagine dei principali quotidiani italiani iniziamo dal Corriere della Sera con questa fotonotizia abbastanza eloquente l'orrore arriva a Bangkok il titolo una bomba contro i turisti l'attentato esplosione vicino a un hotel stranieri tra le vittime e poi a centropagina Merkel all'Expo Bene l'Italia ieri c'è stata la visita della cancelliera Angela Merkel tra i padiglioni dell'Expo visita guidata dal nostro premier Matteo Renzi applausi e qualche fischio durante la visita il premier ce l'abbiamo fatta e ce la faremo sintonia della Merkel con Renzi sui migranti due leader l'Unione Europea non sia solo rigore andiamo avanti con la lettura dei giornali nazionali questa è la Repubblica Migranti l'aiuto di Merkel a Renzi emergenza di tutta l'Unione Europea l'incontro tra il premier e il cancelliere all'Expo Bagnasco cosa fa l'ONU per questa tragedia e dunque intervengono anche i vescovi italiani su questa immane tragedia dei migranti a centropagina terrore nel cuore di Bangkok hanno voluto colpire i turisti le vittime al momento sono 19 i feriti sono 117 e dunque il terrore è arrivato anche a Bangkok città che non era mai stata colpita da attentati terroristici bisogna ovviamente adesso indagare per scoprire quale sia la matrice di questo attentato il ministro della difesa ha già detto che insomma si è voluto colpire uno diciamo si è voluta colpire la principale attività cioè quella del turismo andiamo ancora avanti con i giornali adesso la stampa Europa e Stati Uniti con l'Italia uniti contro l'isis in Libia nota congiunta degli alleati occidentali dopo l'allarme lanciato dal ministro Gentiloni l'arcivescovo di Montreal così la chiesa accoglie i migranti a centopagina bomba contro i turisti nel centro di Bangkok l'esplosione nel cuore del quartiere commerciale 19 morti e 117 i feriti ancora incerta come vi ho detto in precedenza la matrice andiamo ancora avanti con la lettura dei giornali nazionali questo è il sole 24 ore economia ovviamente in primo piano dal piano Juncker 2 miliardi all'Italia nella prima lista solo il progetto ready per 100 milioni ma entrano Autovie Venete e Pedemontana calano ancora i bandi di gara per le infrastrutture in meno 17% poi la visita della Merkel all'Expo Merkel insieme a Renzi all'Expo l'esposizione milanese mi piace viaggio lampo della cancelliera tedesca prima del voto sulla Grecia il premier dice siamo arrivati in tempo lo saremo anche per il futuro e poi c'è una notizia che riguarda le borse Milano guida il rialzo piazza affari un più 0,7% la migliore d'Europa tassi BTP in calo dati Stati Uniti e PIL giapponese deludono andiamo ancora avanti il messaggero crescita a spiragli Renzi Merkel incontro fra il premier e la cancelliera l'Expo su flessibilità e investimenti Berlino più morbida aiuti alla Grecia domani il voto del Parlamento tedesco e Atene taglia le pensioni minime e poi la bomba in pieno centro a Bangkok tritolo contro i turisti fra le 19 vittime anche stranieri la Farnesina per il momento dice nessun connazionale è stato coinvolto fortunatamente e poi Thailandia inquieta il paese dei 19 colpi di Stato paradiso per 250.000 italiani dunque c'è una forte presenza italiana in Thailandia ancora centropagina caso Libia l'Italia a 5 paesi stop alla barbaria Isis appello congiunto Tobruk e Tripoli trovano un'intesa per fermare la Jihad andiamo ancora avanti con i nostri giornali questo è il giornale vendetta contro il nord Alfano usa i profughi come un'arma il ministro raddoppia gli immigrati nelle regioni nemiche Lombardia Veneto e Liguria follia di un vescovo vieta la preghiera degli alpini perché offende gli stranieri e poi la tragedia in Thailandia una bomba fa strage di turisti a Bangkok e ancora immigrati violenti il killer di Brescia in tv diceva qui è uno schifo la polizia dorme stupro in spiaggia a Rimini caccia a un ragazzo di colore e dunque il giornale punta molto l'attenzione sui migranti ovviamente questo argomento è usato anche come modalità di polemica politica vi ricordo che il giornale diciamo è schierato nell'ambito del centro-destra e poi visita Lampo a Milano Merkel allunga le mani sul dopo-expo la cancelliera vede Renzi e si informa sul futuro del sito fischi e applausi per entrambi ancora avanti con la lettura del giornale dei giornali restando sempre nel campo del centro-destra libero l'estate di fuoco della chiesa i vescovi se la prendono anche con gli alpini dopo la lega ai militari proibita ammessa la loro preghiera che recita rendi forti le nostre armi contro chi minaccia la patria e la civiltà cristiana si temeva che gli immigrati si offendessero e poi a centro-pagina questa vignetta che riguarda la visita Lampo con cena all'expo di Angela Merkel la Merkel non si beva la manovra di Renzi andiamo ancora avanti a vedere qualche altra prima pagina questo è il tempo contro ordine tornano le tasse sulla casa si cambia si cambia decisamente argomento per quanto riguarda il titolo di apertura scelto dal tempo imposte e promesse il sottosegretario dell'economia tagli soltanto ai più poveri e spunta la patrimoniale altro che riduzioni con Renzi paghiamo 3 miliardi in più a centro pagina mezzi rotti e fermi a Roma niente soldi per la manutenzione siamo arrivati al capolinea questo il titolo di spalla immigrazione accuse l'attacco di Bagnasco l'ONU che fa e poi polemiche nel Trevigiano la preghiera degli alpini censurata dal prete ne ancora stroncato da una malattia Dio ha donato Bruno il signore della politica continuiamo con la lettura delle prime pagine andiamo a vedere il fatto quotidiano il taglio alloggi d'oro a capo elettricista usciere autisti del Quirinale da settembre il colle si impegna a ridurre gli storici privilegi per far funzionare il palazzo servono dirigenti sempre presenti e vicini di casa dunque anche qui un'apertura differente rispetto a quella che abbiamo visto fino ad ora sugli altri quotidiani per quanto riguarda il fatto e poi Expo Renzi in passerella con Merkel e con Fischi questa è la lettura del fatto quotidiano la cancelliera ha visitato Milano l'Expo con il marito e poi il dossier La cultura mangia di più se c'è lo sponsor politico allo Sturzo e al Gramsci fondi doppi rispetto alla Crusca adesso possiamo passare rapidamente allo sport prima di andare a vedere le previsioni meteo con il nostro esperto Giovanni De Palma di abruzzometeo.it.org allora andiamo allo sport con la prima pagina della Gazzetta fotonotizia centropagina dedicata alla Coppa Italia 2 a 0 del Milan al Perugia Luis Gol va in onda il nuovo Milan c'è ovviamente un gioco di parole Mihailovic conquista San Siro segnano il brasiliano e il giapponese molto bene ne ho acquisti Berlusconi su Ibra dice lo aspettiamo a braccia aperte intanto il Chievo va a K.O. contro la Salernitana sotto la testata close dalla carica alla Lazio prendiamoci la Champions playoff all'Olimpico alle 20.45 l'andata col Bayer e ancora la rivoluzione tutti i nomi della Serie A esuberi compresi sulla Gazzetta e per quanto riguarda l'Inter Rush Peresic e Mancio dice serve Melo andiamo avanti con le prime pagine dello sport questo è il Corriere dello Sport colpo Juve Alex Sandro accordo con il Porto 20 milioni per il terzino brasiliano centropagina la fotonotizia che riguarda il Milan Milan Show e Silvio chiama Ibra la vittoria ieri sera in Coppa Italia 2-0 contro il Perugia Serie A gli allenatori che scrivono per il Corriere Roma e Inter possono lottare per il titolo con Allegri e questa l'opinione di Andrea Stramaccioni Poi andiamo a vedere questa sera l'andata del preliminare di Champions la Lazio si gioca 30 milioni 30 milioni per appunto come premio di accesso alla Champions League ore 20 e 45 Pioli assalta il Bayer Leverkusen e ancora l'intervista ecco Petrucci Ital Basket portami a Rio Andiamo a vedere anche sotto la testata del Corriere dello Sport l'Inter Riecco Lavezzi Toro preso Belotti e poi Maximovici il Napoli offre 15 milioni ovviamente tanto calciomercato sulle prime pagine sportive andiamo a vedere anche tutto sport Toro preso Belotti sotto la testata accordo col Palermo oggi il Neobomber Granata atteso a Torino per le visite mediche poi Alex Sandro Juve Porto c'è l'intesa i bianconeri sono a un passo dall'esterno sinistro che volevano a tutti i costi con il giocatore restano da limare soltanto alcuni dettagli il trasferimento di Cova Ciccio a Madrid apre nuovi spirali per i remedi al Real del Real e poi la Coppa Italia Milan padrone fischia Cerci Miha Furioso di spalla da non perdere questa sera ovviamente la partita della Lazio alle 20 e 45 Lazio fa l'impresa con il Bayer e poi Blitz Genova ecco Kappel per Gasp e ancora è svincolato l'Edesma nel Mirino del Verona e poi il Bologna oggi chiude per destro scendendo nel taglio basso della pagina per Mancini è un'estate infernale e ancora Azzurri under 18 trionfo mondiale il volley 3 a 0 agli Stati Uniti in finale e poi per il basket Torino si salva poi vediamo parla Mancinelli andiamo ancora avanti perché dobbiamo tornare sulla gazzetta per vedere insieme un titolo che riguarda il calcio scommesso e ovviamente la serie B e soprattutto riguarda il Teramo Teramo in serie D i giudici si dividono due membri del collegio sarebbero scettici sul convolgimento di Campitelli nella Combin per il Catania la discussione sulla penalizzazione le sentenze potrebbero arrivare domani oppure giovedì comunque le sentenze arriveranno tutte assieme andiamo a vedere anche all'interno dell'articolo cosa viene detto domande quanta fatica domande a cui il collegio giudicante presieduto da Sergio Artico non ha ancora assegnato delle risposte definitive raccontano che i quattro membri assegnati al caso Savona Teramo siano divisi a metà due colpevolisti convinti del procuratore tornatore del coinvolgimento di Campitelli e quindi della responsabilità diretta del Teramo gli altri due molto scettici invece assai più propensi a far scontare al club abruzzese la sola responsabilità oggettiva per l'illecito commesso dal suo direttore sportivo nel frattempo sospeso si parla ovviamente di Marcello di Giuseppe raccontano pure che Artico stia facendo tanta fatica a trovare un'intesa tra le parti del resto l'una e l'altra tra l'una e l'altra ci sono due categorie di differenza per il Teramo e questo spiegherebbe anche per te perché la sentenza sia slittata a domani o addirittura a giovedì ecco che cosa succederà in questo click se saranno accolte le richieste di Palazzi serie B fuori il Catania e dentro Lentella che ha perso il play out con il Modena la retrocessione in serie D del Teramo aprirebbe le porte a ritorno in serie B dell'Ascoli seconda nel girone B della Lega Pro in Lega Pro da riscrivere tutte le classifiche nel girone A la propria Atria prenderebbe il posto della Torres nel girone B con il Teramo e il Savona all'ultimo posto le squadre riammesse sarebbero Gubbio e Forlì che hanno perso i play out nel girone C con il Barletta non iscritto all'ultimo posto e l'esclusione della Vigor Lamez sarebbe il Messina la 54esima squadra di Lega Pro molto più controversa la possibile riammissione della Versa Normanna l'ultima parola al Consiglio federale del 31 di agosto e dunque questo quanto scrive Alessandro Catapano sulla Gazzetta noi adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6 eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6 torniamo ai nostri giornali torniamo alle cronache regionali e andiamo sulla pagina Abruzzo del centro trasporti la proposta alla Commissione dell'Unione Europea l'Abruzzo alla sfida dei corridoi europei l'obiettivo è spezzare l'isolamento attraverso le prospettive della macroregione con il prolungamento della direttrice adriatica e della diramazione tirrenica Camillo D'Alessandro dice su questa partita dovrebbe esserci una grande alleanza da ragion di Stato che dovrebbe riguardare tutte le forze in campo qui vediamo anche i corridoi della macroregione adriatico ionica e diciamo vedete che manca il collegamento tra Ancona e Bari che appunto dovrebbe essere dovrebbe anzi deve passare per la nostra regione manca anche la direttrice est-ovest tra Pescara e Roma di spalla traffico nel frattempo entriamo nel progetto BlaBlaCar l'Abruzzo insieme alle Marche al Regno Unito alla Romania e alla Francia è partner di BlaBlaCar e dell'Università di Urbino nel progetto Crowd4Roads approvato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Horizon 2020 un progetto che dovrebbe portare 200.000 euro in un anno nelle casse regionali per sperimentare l'applicazione della tecnologia Smart Road Sense che utilizza gli accelerometri degli smartphone dei passeggeri o degli autisti per monitorare in tempo reale traffico tempi di percorrenza stato di manutenzione della rete viaria e mappa degli interventi di ripristino necessari scendiamo adesso nel taglio basso della pagina del centro della pagina Abruzzo crisi finita siamo alla politica regionale i ribelli aspettiamo i fatti politica i tre consiglieri restano in stand by dopo aver firmato un accordo con il governatore noi proprio ieri siamo andati ad intervistare uno dei tre consiglieri ribelli che vedete in questa fotografia possiamo tornare sul giornale parliamo di Olivieri Monticelli e Gero Solimo siamo andati ad ascoltare proprio Luciano Monticelli che poi fa parte del partito democratico con Paolo Lorenzetti andiamo a sentire com'è andato l'incontro con il governatore D'Alfonso Monticelli è tornato il sereno con il governatore D'Alfonso dopo l'incontro di ieri ma ieri è stato un incontro importante forte leale trasparente ma credo che un po' il percorso da fare è ancora un po' lungo ci sono ancora temi importanti cui dobbiamo capire meglio qual è l'azione di questa regione e poi cambiare metodo siamo rimasti soddisfatti a metà diciamo così ci aspettavamo qualcosa in più però credo che la possibilità di incontrarsi di venire a una soluzione migliore credo che ci siano tutti i presupposti però ripeto il lavoro ha ancora tanto da fare perché permettetici non è che abbiamo voluto giocare abbiamo posto delle condizioni importanti sul medo sulla conoscenza delle attività che raggiunto vuol fare e del riconoscimento sul territorio anche di chi opera a livello regionale come i consiglieri regionali Monticelli cosa dovrà accadere in concreto per farvi tornare a pieno titolo a far parte della maggioranza in consiglio regionale abbiamo posto dei problemi quelli sulla sanità ricordiamo una ferita aperta ancora sulla questione dei punti nascita sulla cultura questa mattina abbiamo incontrato le associazioni per discutere quelli che sono i finanziamenti da parte della regione che devono dare le associazioni non siamo contro l'ISA o contro Abruzzo Engineering però l'istituto sinfonico abruzzese deve capire che ci sono altre associazioni importanti che fanno cultura sul territorio e su Abruzzo Engineering sono tanti lavoratori delle compartecipate della regione Abruzzo di cui hanno il dovere abbiamo noi il dovere di far conoscere quale sarà nel loro futuro sono cose importanti che ancora riceviamo il totale accordo quindi secondo me siamo sulla buona strada però è ancora lunga non si chiude in poche ore in pochi minuti andiamo adesso sulla pagina di Pescara del centro ovviamente è una pagina dedicata all'emergenza mare inquinato le nuove analisi dell'arte il mare resta sporco bagni ancora vietati valori sempre alti a Fosso Pretaro sotto accusa il depuratore di quella zona vediamo anche un dettaglio delle analisi al confine tra Pescara e Francavilla vedete i valori che stanno diciamo mano a mano scendendo molto lentamente c'è da dire ovviamente soprattutto il sindaco di Francavilla Antonio Luciani ma anche il primo cittadino di Pescara e il vice sindaco Enzo del Vecchio si augurano così come tutti i bagnatori che operano in quella zona che i valori tornino all'interno della norma però è chiaro che il danno ormai è fatto perché diciamo queste analisi il problema inquinamento è arrivato proprio sotto Ferragosto provocando appunto danni alle attività commerciali prima di vedere le altre notizie andiamo proprio sulla spiaggia di Francavilla ad ascoltare uno degli operatori turistici Riccardo Padovano Il 15 di agosto purtroppo abbiamo avuto i cartelli con il divieto di balneazione questo è stato un danno che sicuramente è stato causato dall'uomo e quindi noi chiediamo sicuramente il prossimo futuro di un potenziamento degli impianti di depurazione ma un'attenzione legata proprio a questo discorso per quanto riguarda la difesa ambientale certo il danno ambientale è notevole non è notevole soltanto ai fini dell'attività economica delle nostre infrastrutture ma all'immagine tutto il comparto dire che mettere i cartelli il 14 di agosto sulle aree dell'area metropolitana e pescare Francavilla Montesilvano significa danneggiare l'immagine tutta l'Abruzzo noi come operatori economici dobbiamo mettere intorno al tavolo insieme ai tecnici e ai politici di affrontare questo tema perché non si può danneggiare un tratto di costa perché i depuratori sono insufficienti allora bisogna fare investimenti per potenziare queste depurazioni d'altronde parliamo di un inquinamento batteriologico quindi è un problema risolvibile non si può aspettare l'estate per mettere i cartelli Vincenzo dell'Aquila il bagnino di questo tratto di spiaggia dove c'è il divieto di balneazione per lei in questi ultimi giorni c'è poco lavoro sì anche perché per il fatto che i bagnanti vengono da me a chiedermi il motivo perché c'è il divieto di balneazione se possono fare il bagno per me il mare come potete vedere adesso è pulito il divieto di balneazione per me lo possono togliere perché per me è una presa in giro forse due o tre settimane fa dovevano mettere questo divieto e queste le parole del bagnino andiamo anzi torniamo sulla pagina di Pescara del centro e andando adesso a Pescara spostandoci da Francavilla a Pescara troviamo ancora le polemiche per quanto riguarda il mare inquinato il centrodestra e i Cinque Stelle sfiduciano il sindaco presentate due mozioni contro Alessandrini accusato di non aver fatto scattare i divieti per il mare sporco però si parla dell'altro caso quello di via Balilla e del sversamento dello scorso 28 luglio l'opposizione non ha i numeri per votare in aula così scrive il centro e sempre per quanto riguarda queste polemiche a Pescara del vecchio il vice sindaco ha scritto a Laca chiedendo subito i controlli per verificare da dove arrivi l'inquinamento e ancora per quanto riguarda questo argomento nella condotta versata 600 litri di acido l'ex consigliere Armando Foschi sospetta un uso eccessivo di Oxi Strong e chiede l'intervento del Ministero vi ricordo che sulla vicenda del mare inquinato a Pescara dello sversamento del 28 luglio della mancata attuazione dell'ordinanza di divieto di balnazione nel tratto prospicente via Balilla è in corso anche un'indagine da parte della procura di Pescara andiamo ancora avanti sul giornale cambiamo adesso argomento Silos e deliporto Contesi lite d'oro tra comune e Asl va in Cassazione il contenzioso per la proprietà del multipiano dell'ospedale il comune già bloccato dal Tar vuole 400 mila euro di affitti arretrati qui vedete anche l'eliporto dell'ospedale di Pescara la protesta della sigla Nursind di spalla il sindacato lavoratori Asl senza mensa aziendale scendiamo nel taglio basso da Mario a querelato strisce alla notizia il manager dell'Asl chiederà anche un risarcimento danni con il ricavato dice costruiremo un asilo andiamo avanti l'evento giochi sulla spiaggia si cercano volontari per le competizioni sono già tanti i giovani che hanno dato la propria adesione gli organizzatori promettono sarà un'esperienza speciale e poi aree verdi alle multe via alle multe per i padroni dei cani due sanzioni da 50 euro della polizia municipale per gli escrementi non raccolti strada parco ancora invasa dagli oleandri l'assessore dice puliremo domani poi c'è questa notizia che riguarda case e asilo a via dei Peligni Sospiri chiede una assemblea su questo argomento andiamo avanti la cronaca il furto sulla riviera pubblica su facebook la foto del ladro gelataia lascia la macchina aperta e sparisce il portafogli con 1000 euro ma le telecamere riprendono la scena e qui vedete proprio alcuni fotogrammi di quanto ripreso dalle telecamere al dire il vero questa diciamo iniziativa di pubblicare le foto e i video di scene di furti all'interno di esercizi commerciali non è un'idea soltanto di questa gelataia pescarese ma ci sono altri episodi simili in italia con commercianti esasperati per i tanti furti subiti che così mettono su facebook le immagini del ladro e del furto sperando che qualcuno possa aiutarli ad identificare il ladro torniamo sulla pagina nel taglio basso san giovanni teatino tari i conti non tornano il movimento 5 stelle contesta le tariffe comunali andiamo avanti investito dal bus al semaforo ciclista ferito tragedia sfiorata tra via Conte di Ruv e via D'Annunzio trascinato per 10 metri con un piede incastrato sotto una ruota e intanto nel pescarese quattro incendi sono stati tutti domati fiamme in un camping abbandonato e ancora interventi dei vigili del fuoco nel pescarese nel corso del pomeriggio di ieri l'episodio più grave a Città Sant'Angelo per un rogo che ha interessato un camping abbandonato si è dovuto alzare in volo l'elicottero dei vigili del fuoco e dunque questo è il rogo più grave della giornata di ieri adesso andiamo a Francavilla notte magica dei fuochi a mare per San Franco stasera grande spettacolo pirotecnico dal pontile Sirena che sarà interdetto dalle ore 23 e 30 i tradizionali fuochi a mare chiudono le festività per il santo patrono San Franco grande affluenza solitamente di pubblico si prevedono circa 50 mila persone questa sera a Francavilla ancora festa per l'ambiente sempre a Francavilla lotteria di buendia ecco i numeri dei biglietti vincenti e ancora per Francavilla viani alloggi sociali non ci sono i numeri per votare il piano e a Cepagatti campagna di test medici gratuiti alla Croce Rossa andiamo adesso sulla pagina di Montesilvano servizi turistici la polemica radio mare resta muta nessuna notizia in spiaggia anche per questa stagione non è stato acceso l'impianto di filodiffusione utilizzato in passato per assistere i bagnanti e migliorare la sicurezza sul litorale e poi strada parco tracciato inagibile carrozzine determinate torna a sollevare il problema al vertice regionale troppe barriere e bus da cambiare ricordiamo sempre l'impegno di carrozzine determinate per la vivibilità da parte dei disabili delle nostre città in particolare l'impegno per alcuni cambiamenti sulla strada parco anche in relazione al progetto della filovia tra pescara e montesilvano il festival cambiando argomento oltre 3.000 presenze in città per la tre giorni di swing e nel taglio basso città sant'angelo giovedì al village l'attore gabardini chiude lo street festival chalet gente di mare la reginetta e martina matteo il più bello queste notizie per alleggerire gli argomenti di oggi andiamo nella pagina di penne popoli dell'alta val pescara diamanti allargare l'area protetta al san callisto popoli la proposta dell'assessore all'ambiente sarà portata all'approvazione del consiglio per tutelare il corso d'acqua che attraversa la città andiamo a bussi al via l'appalto per realizzare un centro anziani e poi a centro pagina farindola lacchetta conti in ordine e bassa pressione fiscale tornando a penne in vendita a quote della vestina gas si aggravano le difficoltà finanziarie del comune debiti fino al 2044 addirittura poi nel taglio basso a torre dei passeri di domenico il nuovo presidente della nuova torre calcio e a manopello tari e piano rifiuti SOS al prefetto da parte delle minoranze adesso andiamo sul sul messaggero andiamo a vedere insieme la pagina di Chieti e poi vedremo anche qualche notizia dalla pagina Aquilana allora andiamo a recuperare subito la pagina di Chieti eccola qui indennità ai dipendenti e slalom tra i cavilli il collegio prende tempo chiedendo ulteriori chiarimenti all'Ateneo serve l'attivazione di nuovi servizi per la ricostituzione del fondo di oltre 2 milioni e mezzo di euro interrogazione dei senatori del Movimento 5 Stelle contro l'adannunzio del vecchio solo pettegolezzi e chiacchiere e poi cambiando argomento passando alla cronaca scritte sulla chiesa allo scalo la Digos denuncia Gomez Gagliani agito mentre stava ai domiciliari e un giovane con precedenti ora si trova in carcere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza per quanto riguarda la provincia Pupillo avverte per l'assistenza e i trasporti selvono soldi è ormai cronica la mancanza di soldi nelle province in particolare nella provincia di Chieti che sconta un deficit davvero importante e poi l'evento artisti di strada festa per 10.000 un successo gli spettacoli di Ferragosto finanziati dai negozianti di Via Toppi e Porta Pescara a Chieti Villa salta anche One Night Artist impegni personali delle organizzazioni in sostituzione in programma un concerto dopo la defiance del Baskers Festival l'estate 2015 vede anche la cancellazione della quinta edizione del festival One Night Artist in programma alla Villa Comunale di Chieti i primi di settembre è dato per certo fino a un paio di settimane fa la pagina di Lanciano Vastortona ancora cronaca violenze e abusi nei guai pure due donne l'ispettore capo nella bufera sarà interrogato oggi secondo i suoi avvocati il poliziotto è stato incastrato le dominicane avrebbero fatto da intermediari affinché le cinquantenne incontrasse la presunta vittima questa l'inchiesta condotta dalla procura di Lanciano poi scarpe borsette occhiali falsi maxi sequestro dei carabinieri ad Ortono operazione sul litorale nell'ultimo weekend denunciati tre stranieri scendiamo nel taglio basso a Gamberale precipita nel bosco a causa delle buche ciclista ricoverato in prognosi riservata l'incidente avvenuto in località Schiappone il turista ha battuto il capo è stata la moglie a lanciare l'allarme un trentenne ad Atessa è uscito fuori strada a Lentella i ladri entrano dal balcone ancora colpi al narcotico dunque continuano i problemi di furti anche nella provincia teatina adesso andiamo a vedere insieme qualche notizia dal capoluogo di regione dall'Aquila poi passeremo a Teramo andando sulla città mazzata dall'Europa rischio effetto domino Bruxelles chiede la restituzione di riduzioni di imposte dei contributi previdenziali concessi dopo il sisma del 2009 CGL Appindustria la richiesta potrebbe riguardare anche le partite IVA che hanno usufruito delle agevolazioni la restituzione delle tasse dice Massimo Cialente è una questione sleale vergognosa e inaccettabile il parere dell'esperto del Castello il governo Monti doveva notificare all'Unione Europea i contenuti della legge il precedente di un giudizio alla commissione tributaria lascia aperta una via d'uscita e dunque si lavora affinché non ci sia questa restituzione delle imposte di spalla l'incendio c'è un testimone oculare del rogo delle balle di fieno all'azienda Corona nel taglio basso tempi lunghi per Colle Maggio il cantiere in stand by Leni finanzierà la ricostruzione ma dopo un anno non si conosce la ditta esecutrice dei lavori andiamo ancora avanti sempre la pagina aquilana film commission la legge è pronta il dirigente regionale Zappacosta stoppa rumors e ingerenze sciacallaggio dell'accademia in questi anni non hanno fatto nulla no all'offerta del comune di una sede gratuita il progetto e Bipartis hanno un milione per valorizzare il prodotto Abruzzo andiamo andiamo avanti ancora con la vicenda Gran Sasso stallo completo si cerca subito almeno un vice la grana del presidente botta e risposta tra ministero e regione oggi ci dia d'urgenza per nominare un supplente si accende lo scontro istituzionale sulla nomina del nuovo presidente del parco nazionale del Gran Sasso scendiamo nel taglio basso l'inchiesta redderazione la dipe al giudice cambiata la governance i legali chiedono la revoca degli arresti domiciliari per Pellegrini e di Persio andiamo adesso sulla città per vedere anche le notizie dalla provincia di Teramo recuperiamo la città ovviamente in primo piano l'inchiesta dirti soccer tutta Teramo in attesa della sentenza l'avvocato Chiacchio si dice fiducioso Campitelli è pulito il proscioglimento significherebbe la B andiamo a ascoltarlo proprio l'avvocato Edoardo Chiacchio che difende gli interessi del Teramo intervistato via telefonica da Alfredo Giovannozzi Come ci si deve approcciare a questo primo grado di giudizio? Ma con la tranquillità e la serenità di aver dimostrato che il presidente Campitelli non può essere neppure lontanamente considerato il soggetto esposto nella requisitoria del sostituto procuratore federale quindi siamo tranquilli e sereni di aver fatto tutto il possibile e di aver dimostrato senza umbio di dubbio che le accuse sono infondate Avvocato uno dei punti forti dell'accusa era quella fascia oraria che andava da mezzogiorno diciamo a luna del pomeriggio dove i dirigenti hanno detto che il presidente Campitelli era andato in camera a riposare invece per l'accusa era andato a saldare il conto della partita venduta voi c'è una prova che avete portato e che non è poi venuta fuori in maniera così eclatante si parla di una ricevuta di un pagamento con carta di credito del presidente Sì ma questa era qualcosa che non era neppure necessario trovare ma quello che lei ha riferito in effetti è solo una parte della verità storica il discorso è questo il direttore sportivo del Teramo era in quel luogo in un appuntamento per altri motivi peraltro come ha dimostrato l'avvocato Libera D'Amedio era in quel luogo dalle ore 10.58 e noi penso che abbiamo dimostrato che fino alle ore 12 con due testimonianze ma ce ne sono altre sette testimonianze prodotte con le indagini difensive il presidente era in hotel con la squadra che cosa si aspetta dal primo grado che tipo di condanna no ma io ne aspetto il proscioglimento di Gambitelli poi il resto non è conseguenza di questo proscioglimento se le cose non dovessero andare così quante possibilità nel secondo grado ci saranno per conservare la Serie B ma io a questo non penso proprio chi dimostra con prove provate di non aver commesso il fatto deve esserlo sciolto e con il proscioglimento di Gambitelli non può che essere riconosciuta la Serie B al Teramo e staremo a vedere sentenza attesa nelle prossime ore molto probabilmente tra domani e dopo domani i giudici abbiamo letto anche nella prima parte di Mattino 6 sulla Gazzetta ma leggeremo più avanti sembrano insomma divisi a metà tra colpevolisti e innocentisti per quanto riguarda la posizione del Presidente Campitelli poi quando entreremo nella pagina dello Sport approfondiremo ancora questo argomento intanto torniamo alle notizie dalla provincia di Teramo gli agenti salvano due detenuti dal suicidio i sindacati della penitenziaria situazione esplosiva a Castrogno a Ferragosto c'è stata la visita di Pannella e poi per quanto riguarda la cronaca a spasso con lo scooter rubato la polizia arresta due immigrati il proprietario di Torricella ignaro del furto scendiamo nella pagina l'incidente ciclista morto sulla bonifica del Salinello l'autopsia conferma l'ipotesi del malore il 62 anni Antonio Tacconelli trovato senza vita lungo la strada e poi lettera aperta Teramo il Braga come Taranto e il paesiello il maestro Petraccia chiede l'impegno bipartisan alla politica andiamo ancora avanti e andiamo a vedere il funerale a Pineto 3.000 persone per l'addio a Federica Barra Fiori e palloncini bianchi per la 15enne morta nell'incidente stradale di Ferragosto sulla moto di papà e qui vedete alcune immagini della cerimonia funebre intanto la magistratura possiamo anche vedere le immagini registrate ieri pomeriggio proprio fuori la chiesa di Pineto la magistratura continua ad indagare sull'incidente mortale l'uomo alla guida dell'alfa pinetese di 53 anni è ancora sotto shock e indagato per omicidio colposo secondo una primissima ricostruzione della polizia stradale di Teramo che ha svolto i rilievi subito dopo lo schianto la moto proveniva dal semaforo della statale 16 per Mutignano ed era diretta verso la piazza della libertà all'incrocio tra via filiani via trieste padre e figlia si sono trovati davanti l'alfa che avrebbe tagliato la coda di auto in fila per il semaforo l'impatto è stato inevitabile e ha provocato la morte della quindicenne si sono celebrati appunto ieri i funerali a Pineto adesso andiamo andiamo allo sport andiamo sul quotidiano il centro per andare in serie B dopo l'eliminazione in coppa e parliamo del Pescara ripeto dice due innesti il Pescara volerà il direttore generale gioco personalità è una fisionomia precisa si vede la mano di Oddo al momento siamo da seconda fascia ma se mettiamo fisicità lì davanti le cose potrebbero cambiare lascia intendere ripeto a Torino una buona circolazione di palla e la tendenza a recuperare la sfera con Bari centro altro Cagliari Spezia Cesene da Vellino in prima fila poi ci sarebbe il Pescara che intanto ha sempre nel mirino Boacì e Giorgi oppure Buckel linea diretta con l'Atalanta per i rinforzi Pesoli va verso Salerno Esposito KO andiamo in casa della Virtus Lanciano adesso restando sempre in serie B da Versa Masticamaro aspetto i rinforzi l'allenatore il progetto tecnico che ho discusso con la società al momento è venuto meno con le cessioni di Tiam e Trost dunque vuole rinforzi il tecnico da Versa oggi atteso l'arrivo in città del portiere Cragno dal Cagliari nel mirino anche Zoboli e Zanon prima di passare al Teramo andiamo nel taglio basso la Lega Pro Rosso Blu nella nuova casa l'Aquila lavora all'Acqua Santa e oggi c'è Piva e poi per l'eccellenza di Gennaro lascia Francavilla e va a Grosseto adesso torniamo al Teramo anche sul centro ovviamente in primo piano l'attesa per la sentenza discussione serrata per decidere le sorti del Teramo i componenti del Tribunale federale riuniti di nuovo per approfondire il caso verdetto tra domani e giovedì la FIGC ha fatto sapere che le decisioni come vi ho anticipato in precedenza per i tre processi saranno rese note lo stesso giorno chiacchio intanto sprizza fiducia l'abbiamo ascoltato poc'anzi Grassani tuona Grassani illegale dell'Ascoli combine certa per Savona Teramo oggi i biancorossi tornano al lavoro c'è l'ex Lulli che dice sia al Catania di Pancaro oggi riprende la preparazione alle 17.30 i ragazzi di Vivarini si ritroveranno al Bonolis domani giovedì invece i biancorossi si alleneranno sia al mattino che al pomeriggio andiamo adesso un attimo sul messaggero per vedere anche l'Abruzzo Sport del messaggero notizia per quanto riguarda il Pescara è un Pescara a due facce Oddo soddisfatto a metà molto contento della mentalità ora dobbiamo eliminare i tanti errori individuali di squadra dobbiamo interpretare meglio le varie fasi della partita ma fino al 3-1 abbiamo tenuto in scacco un ottimo Torino per il mercato Pesoli e Grillo i primi addi Buaci e Giorgi aspettano il via libera per arrivare a Pescara e poi come detto ancora il Teramo commissione divisa Teramo può sperare secondo indiscrezioni non ci sarebbe unanimità tra i giudici potrebbe risultare decisivo il parere del presidente del collegio federale Sergio Artico tutte le sentenze dovrebbero essere note domani pomeriggio in contemporanea sul sito della FIGC intanto l'Aquila trova un motivo per sperare per quanto riguarda sempre l'inchiesta di Irti Soccer un precedente che fa ben sperare quello della Puteolana nello scorso campionato condannata in primo grado a un punto di penalizzazione per responsabilità oggettiva verdetto poi annullato in appello per la Virtus da Versa dice il progetto tecnico è venuto meno l'abbiamo già visto sul centro il tecnico esprime in conferenza stampa tutta la sua preoccupazione per una rosa da rinforzare dopo le cessioni di Tiam e Trest che non erano previste per il momento l'organico è indebolito in serie di San Nicolò il 26 ci sarà il test con il Pescara e sempre per la serie di Amiternina il mercato è quasi chiuso per la Amiternina scoppito andiamo chiudendo per quanto riguarda lo sport con il basket di A2 Roseto prende Trevisan e aspetta il C.D.Berry il quintetto di Tony Trullo è un passo dal francese proveniente da New Mexico è tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa ovviamente Martino 6 torna domani puntuale alle ore 7 mentre la nostra informazione quotidiana oggi come sempre alle 14 alle 19 con il TG6 grazie ancora per essere stati con noi buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti